Ed eccoci qua in diretta! Ciao ragazzi! Mettiamo schermo full, perfetto, così dovreste vedere bene. Oh mio Dio, che cavolo... Ragazzi, mi è appena arrivato un messaggio nel cellulare, proprio adesso! Tutto in diretta, con scritto questo è un messaggio di test del sistema d'allarme pubblico italiano! Ma che è? Ma mi volete fare prendere un infarto? Ho appena iniziato la live! Ciao! Ciao a tutti! Scusate! Ma che cavolo? Ma è arrivato anche a voi! Ciao, ciao, ciao! Scusate, sono in shock! Ho appena iniziato la live e mi arriva un messaggio di test che mi fa... Vabbè, ciao! Eccoci in live! Allora, buttiamo via il cellulare, che sennò qua esplode di nuovo! Poi lo rivedrete quando ricaricherò la live su YouTube! Siamo già a 500 e 50 secondi, grandissimi! Come state ragazzi? Quest'oggi si torna all'interno del mondo con mezzo cuore! Per chi non sapesse che cos'è questa serie, è una serie che voglio fare in live con voi, dove giochiamo in un mondo hardcore con mezzo cuore, avete capito bene! E no, non sono mai morto! Mai! Ok? Mi avete mai visto morire? Direi proprio di no! Allora, non sono più entrato dopo la scorsa live in questo mondo, perché appunto voglio fare tutto quanto in live con voi! Ciao Carli! Mi è arrivato un messaggio poco fa che me lo sono fatto sotto! Un messaggio di test di pericolo e il cellulare ha iniziato a fare... Boh! Totalmente random! Allora, come vedete ragazzi mi sono creato una mini base, giusto per proteggermi dalla notte! Quindi ora vi spiego, come vedete c'ho letteralmente mezzo cuore hardcore, perché ho impostato il mondo in mezzo cuore, quindi dobbiamo essere estremamente attenti a tutto ciò che facciamo, perché qualsiasi cosa ci può uccidere. Nella scorsa live sono morto con un pufferfish, poi sono morto soffocato in un muro, quindi letteralmente anche un pugno sulla spalla da parte di questo pollo potrebbe ammazzarmi. Quindi ne vedremo delle belle ragazzi, ne vedremo delle belle. Adesso mi sono fatto sta mini base soltanto perché in realtà volevo proteggermi dalla notte, però vorrei andare alla ricerca di qualche villaggio, anche perché devo equipaggiarmi meglio, abbiamo bisogno di molti molti più materiali, mi devo fare una corazione di rite, mi devo fare molto più oro per farmi una mela d'oro, quindi mi prendo questa e direi di salpare di nuovo verso il mare alla ricerca di un nuovo villaggio. Ora, non mi ricordo da che lato sono venuto io, ma questa barca l'abbiamo già controllata ragazzi? Credo di sì. Ovviamente devo stare molto attento anche ai salti, perché se faccio un salto da tre blocchi... Stavo per dire. Se faccio un salto da tre blocchi muoio. Sì, allora, qua ci siamo già stati perché ho scavato. Perfetto, quindi dobbiamo andare da quella parte. Anche a me è arrivato il messaggio. Ma ragazzi, non mi era mai arrivato! Cioè, appena ho startato la live è partito il cellulare a fare... a fischiare, a fare... e c'era scritto tipo un messaggio d'allerta, di test. Ma che sono pazzi sono? La gente prende un infarto così. Allora, dobbiamo andare, dobbiamo andare da quelle parti. Da quella parte. È normale, è arrivato anche a me. Normale a tutti. Ah, ok. La coincidenza è stata che è arrivato mentre ero in live. Ho pensato, boh, mi ha nockerato. Ho scoppiato tutto qua. Allora, quindi l'obiettivo, come vi ho già detto nello scorso episodio, non è farsi l'armatura in diamante. Perché è troppo rischioso andare in caverna. Ci possiamo provare, ma secondo me... morirei. Secondo me, quello che bisogna fare intanto è... riempirsi di tantissima... Aspetta, ci penso io. Riempirsi di tantissimo oro per fare tante, 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 tante mele d'oro. E dopodiché cercare di fare... Aspetta un secondo. Dopodiché cercare di fare l'armatura in nederite. Perché quella ci potrebbe proteggere con mezzo cuore. Tutto il resto, no. E come fai a smioccare? Vabbè. Allora, dobbiamo cercare un bel villaggio. Ti voglio bene. Grazie anch'io, Alberto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, ragazzi. Lasciate un mi piace per le live dell'imperatore. E finalmente abbiamo trovato una terra inesplorata. Credo, spero, non lo so. Adesso spunta il pesce palla. No, vi prego. Il mio incubo, ragazzi. Ci ho fatto uno short, tra l'altro. Molti che hanno visto quello short non avevano neanche ancora visto la live. E si sono ammazzati dalle risate. Sì, devo stare attento veramente a tutto. Cioè, esistono fiori velenosi, ad esempio? Metti che c'è un fiore qua per terra e ci cammino sopra. Muoio! Schiatto! Kapum! Addio! 1600 spettatori, 800 mi piace. Eh già, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Qualcuno di voi è un po' tirchio e non sta lasciando il mi piace. Aspettate, fatemi abbassare questo un secondo. Ok, meraviglioso. Eh, il letto ce l'ho, vero? Sì. Abbiamo il letto. Abbiamo un water breathing. Qualora ci dovesse servire. Abbiamo un secchio d'acqua per fare un clutch. Siamo pieni, pieni, pieni di cibo. E ho anche un diamante. Che sapete che cosa ci faremo con questo diamante, ragazzi? Eh? No, sto scherzando. Non lo farei mai. Non ha minimamente senso. Allora, se volete che io vada in caverna a cercare di diamanti, lo posso anche fare. Non credo abbia molto senso. Però, se credete voi che possa funzionare andare in caverna per prendersi l'armatura in diamante, ci andiamo. Allora, uno se devo andare in caverna, due se non ci devo andare. Attento alle berry. Esatto, appunto. Devo stare attento pure ai cespugli. Uno se devo andare in caverna, due se non ci devo andare. Spammate. Aspettate che non ho la chat in tempo reale. Ok, adesso ce l'ho in tempo reale. No, ragazzi, state scrivendo... Siete in troppi a scrivere uno. Volete veramente che io vada in caverna? Volete la mia morte? È questo che state cercando di dirmi? Lì, blocchi volanti, nel frattempo, ma sì, tutto nella norma. Tutto nella norma. È la mia prima live. Ecco. Perfetto. Morirò sicuro. Adesso. Benvenuto, benvenuto. Ti piaceranno tantissimo le mie live. Sono sempre pieni di contenuti. Riesco sempre a farci uno o due short dalle mie stupide morti. Allora, sto scendendo piano piano con l'acqua per non rischiare. Siccome si sta per fare notte, io direi a questo punto di aspettare. Così metto il letto per terra e dormiamo. E dopodiché proviamo ad andare in caverna, visto che volete che io vada in caverna. Però ragazzi, andare in caverna con mezzo cuore hardcore significa che devo fare tutto perfettamente. Se mi arriva una freccia da uno scheletro, devo fare... E pararla istantaneamente. Dite che ce la posso fare. Lo so che voi credete ovviamente nelle mie potenzialità, nel fatto che sono l'imperatore e riesco a fare tutto di tutto. Però... Vai in caverna, Kendall. E andiamo in caverna. E andiamo in caverna. Ok. Ok. Però... Ne voglio trovare una... Semi visibile. Quindi non voglio scavarmi sotto i piedi. Se è possibile, troviamo una bella cavernozzola normale. Allora, che cosa può uccidermi in caverna? La gravel. Quindi ci serviranno le torce. Creeper, scheletri, ragni e zombie. Quindi abbiamo lo scudo. E basta. Giusto? La lava? C'ho l'acqua, ma non serve a nulla. Dal momento in cui tocco la lava, sono morto. Mi fa istantaneamente mezzo cuore. Non andare in caverna. Eh, ma tutti mi hanno detto di andare in caverna. Qua l'acqua è baggatissima, tra l'altro. Cos'è successo a sto villaggio? Tutto distrutto, tutto baggato. Dai, proviamoci, ragazzi. Si va in caverna. Soltanto che c'è un problema. Non ci voglio andare qua, perché qua le caverne saranno tutte piene d'acqua. Infatti di solito vicino alle paludi è sempre pieno d'acqua. Occhi aperti, sempre. Massima attenzione, massima allerta. Sempre pronto al pericolo. Kendall non si fa mai prendere alla sprovvista. A meno che si tratti di un pufferfish schifoso, inutile. Tu sei l'imperatore, ce la farai! Ok. Continuate a incoraggiarmi, ragazzi. Continuate a incoraggiarmi. Qua sotto potrei scendere. No, c'è acqua, visto? Lì è pieno d'acqua, quindi... Non c'ha senso. Devo trovare le caverne senza acqua. Non quelle allagate. Che devo chiamare? Super Mario? O Mister Muscolo Idraulico Gel? Anche qua saranno tutte quante piene d'acqua. Scendi piano piano, Candy. Non spaccarti la ginocchia. Tra l'altro oggi nel mio secondo canale uscirà un video... Dove Steph e Fere mi hanno dissato. Quindi non potete perderlo. Se non siete ancora iscritti al mio secondo canale... Si chiama Candy, con la Ypsilon. Andate a iscrivervi. Porto altri giochi, non porto Minecraft lì. Ok, sì. Allora, sto cercando proprio una zona dove non ci sia l'acqua. Uh, la lava potrei entrare nel Nether. No, non ha senso. Nel Nether ci muoio sicuro, vero? Perché se mi prendessi tipo la nederite al volo... Sì, muori sicuro. Ecco, perfetto. Sono contento che abbiate così tanta fiducia in me stesso. E cioè, in me. Ok, forse è vero. Forse nel Nether ci muoio al 100% se prima non mi faccio delle mele d'oro. Idea. Così si prendono pure le mele, no? O devo sradicare gli alberi per forza? No, mi sa che lo devo sradicare per forza. Un tempo si potevano prendere anche così. Adesso mi sa, non più. Allora, prendiamo un bel po' di mele. Che io non ho, giusto? No. Così, se vado in caverna, prendo l'oro. E con l'oro mi faccio le mele d'oro. Se riesco a farmi tipo uno stack di mele d'oro, lo so che sembra tanto uno stack di mele d'oro, ma è fattibile, si può fare. Se riesco a farmi uno stack di mele d'oro, ragazzi, le posso spam e mangiare per avere quei due cuori in più. In questo modo non starei più sopravvivendo con mezzo cuore, ma con due cuori e mezzo. Oltre a protezione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere un buon piano quello. Quello delle mele d'oro. Aspettiamo che scenda qualche mela. Ce ne servono almeno 5-6. Cerca le mele OP. Sì, allora, amico mio. Le mele OP si trovano principalmente nelle Ancient City. Se io entro nelle Ancient City con mezzo cuore, full ferro, guarda, mi one-shotano a vista proprio. Mi guardano e sono morto. Neanche devono toccarmi. Quindi per il momento le Ancient City è fuori discussione. Se dovessi riuscire a trovarne una di mele d'oro OP all'interno tipo di un tempio del deserto, ben venga. Ben venga, è come. Intanto direi di approfittarne per svuotarci l'inventario. Buttiamo ste scalette che non servono a nulla. La gravel mi serve perché poi dovremo trovare la flint. Via. Queste qua me le tengo qua. Questa non mi serve più a nulla. L'orologio non mi è mai servito a niente. Troppo cibo, troppo cibo. Buttiamo questi, via. Ok, l'inventario è un po' più pulito. Meglio così. No. No. No, 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 no. Mi dispiace ma... Noi non siamo amici. Io mi allontano. Faccio finta di non avervi visto. Una mela? Zero? Neanche una ne è caduta. Soltanto... Vabbè, raga, fin quando non mi vedono... Due cuori e mezzo sono tanti, eh. Sì. Siete simpatici. Tantissimi. Tantissimi due cuori e mezzo. Mo' arriva una freccia. No, dai, se sto a questa distanza non mi possono colpire. Che sono? Mi cacciano l'Ainbot, scusa. Cioè, sì, in realtà ce l'hanno, ma non sono... Non possono prenderti da duemila blocchi. Neanche una mela! Cioè, uno vuole entrare in caverna per farsi la mela d'oro e non ne cade neanche... Oddio, il coniglietto mi ha fatto paura. Ovviamente devo stare attento anche... Ai cactus. Immaginate morire per un cactus? Anche no. Anche no. Ok, non c'è neanche una mela. Positivo. Positivo. Ho un'idea. Prendiamo i sapling e io poi li pianto tutti quanti. Mi faccio una bella zona con... Con tutti degli alberelli. E mi faccio la farm in quel modo. Adesso. Visto che i pillager sono andati da quella parte. Ne approfitterei per andare dalla parte opposta e vedere se riesco a trovare una piramide. Che farebbe al caso mio. Visto che nella scorsa live stavamo proprio cercando un deserto. Ora l'abbiamo trovato. Non sarebbe male una bella piramide, no? No, non è una piramide. Le piramidi tecnicamente anche se sono sottoterra dovresti sempre vedere almeno la cima, no? Vedo sfocato. Clicca sulla rotellina del player di YouTube e metti la qualità massima. Ok, sto deserto è bello grande. Aggiorno un attimo i chunk. Sto deserto è grande, grande, grande. La troveremo sicuro qua nella piramide. Dobbiamo solo sperare di trovare anche una bella mela d'oro OP. Però che faccio in quel caso? Come me la mangio quella mela d'oro OP? Attento alle mummie. Uh, ho un'idea. Sapete come potrei mangiarmela? Potrei cercare un end city. Scusa, sì, un end city. Buongiorno, Kendall. Buongiorno. Potrei cercare un ancient city, quindi quella del warden. Mangiarla prima di entrarci. E mentre sono là dentro, mi arruffo tutte quante le ceste, mentre ho il potere della mela d'oro OP. Perché nelle ceste si trovano tante altre mele d'oro OP. Quindi ne sprechi una per trovarne tipo altre quattro. Sarebbe comunque rischioso, però secondo me potrebbe funzionare. C'è una piramide in questo maledetto deserto? Mi sa di no. Scendi pian piano. Mezzo cuore è tanto, tantissimo. Tantissimo mezzo cuore. Ti ucciderebbe pure un coniglietto con mezzo cuore. Ti salta addosso e muori. Allora, là ci abbiamo un villaggio che io non ho esplorato. Solo che i villaggi del deserto fanno abbastanza schifo. Perché sì, ok, ci trovi il cammello, ci trovi il dromedario. Ma non è che ci puoi trovare tanto di meglio. Uh, però, nelle ceste potrei trovare le mele. Mele che ci servono per fare le mele d'oro. Giorni chunk. Vediamo, vediamo se troviamo delle ceste. Intanto pane a go-go. Stavo per toccare un cactus. Ma non ci sono le case? C'è così poche? Solo queste? Scendi piano. Abbiamo trovato il tempio. Ora, attenzione. Assicuriamoci che non ci sia un creeper qua dentro. No, sento uno scheletro. No, ragazzi. Mio Dio, sento uno scheletro dentro. Che faccio? Si rischia? Oddio. Sto seriamente combattendo uno scheletro con mezzo cuore. Chiamatemi imperatore, ragazzi. Dove voi? È il primo mostro che uccido. Ok. Adesso. Ce ne sono altri qua. È pieno. Io ho bisogno di questa maledetta piramide. Prendi il dromedario. È vero, il dromedario c'è un casino di cuore in più. Però io non ho la sella. Quindi non me ne faccio nulla. Fin quando non trovo la sella. Speriamo di trovare la sella nel... Dentro il tempio. Perché il dromedario è talmente alto che i mostri non riescono ad attaccarti. Lui c'ha tipo 10 cuori. E quindi in quel modo lo potrei utilizzare, tra virgolette, da scudo. Dai, fammi dormire! Sono appena entrato. Cosa mi sono perso? Ho appena ucciso uno scheletro con mezzo cuore in hardcore. E ce ne sono altri là dentro. Quindi dovremmo entrare, tra molto. Ok, 3, 2, 1. Buonanotte. Imposta rigenerazione. Che vuol dire? Allora. Scudo alzato. Pronti a ogni pericolo. Qua per me c'è un altro mostro. Controlliamo ogni angolo. Eccolo, lì c'è un creeper. Basta, sono un creeper? Ok. Il creeper è easy. Il creeper non mi fa nulla. Morto? Di già? Riempiamo di torce, così non spavolano. Degli scheletri random. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Ok. Uh! Beh dai ragazzi, tutto sommato poteva andare peggio. Ora scendiamo. Qua ci sono mostri? No. Attento imperatore, anche se sei immortale. Eh, più o meno. Allora, dobbiamo avere la fortuna di trovare una mela d'oro OP. Niente. Meraviglioso. Me la d'oro OP! Me la d'oro OP! E abbiamo trovato anche... No, vabbè. No, vabbè. E anche questo! Diamante? Ok. Ragazzi, abbiamo la me la d'oro OP. La sella, la sella, la sella. È vero, è vero, è vero, è vero. Bravi, bravi che me lo avete ricordato. Bravissimi. Con queste mi faccio candena pesca e arco. Oh, oh, oh! Tutto sommato, raga! Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. La mela d'oro OP è tanta roba. Sei fortunato? Sì, è vero. Ho avuto un bel po' di fortuna. Adesso l'ho detto e mi trovo un creeper dietro che mi esplode addosso. Pronti? No, dai. Ok, direi di riuscire da qua. Assicuriamoci che non ci siano mostri. Quindi, dite che conviene prendere il dromedario. Perché io ho paura di fare la stessa fine dell'altra volta con il lama. Che salgo sopra e muoio per un bug o per una roba stupida. Però effettivamente lui contro i mostri potrebbe aiutarmi un bel po'. Perché guardate quanta vita ha. Questa è tutta vita che prima perde lui e poi vengo attaccato io. Perché è molto alto. Allora, la sella dove l'ho messa? Eccola qua. Ho paura, ragazzi. Io ho paura a muovermi con sto coso gigante. Cioè, tecnicamente adesso c'ho molta più vita. In più c'ho anche... Eh, che bello qua. In più c'ho anche la mela d'oro OP. Come faccio a mangiarla? Cioè, non è che la... Non la voglio mangiare ora e sprecarla per sempre. Secondo voi conviene entrare in un ancient city... Mangiando la mela d'oro per trovarne altre. Salta, non salta. Ah, ha tutta questa barra di ricarica per risaltare? Si stanca facilmente, non lo sapevo. Ok, attenzione ai cactus. Tecnicamente adesso qualsiasi mostro dovrebbe prima colpire il dromedario e poi me. Quindi prenderà più danno di me lui. Ciò mi permetterebbe di avere una specie di corazza in più, diciamo. Sento scheletri qua sotto. Però ripeto, fin quando sto quassù, tecnicamente sono salvo. Nel frattempo vediamo se troviamo un'altra piramide. Perché qua non è finito il deserto. Potrebbe essercene un'altra. E infatti qua c'è un altro villaggio. Ok. Un po' più rigoglioso. Qua abbiamo di nuovo la barriera corallina, quindi... Possibili pufferfish. O è un portale del nether? O è il coso degli annegati? Fermi, fermi, fermi. Devo controllare perché potrebbe esserci una cesta utile. Non mi fare paura così. No, non c'è nulla qua, vero? Sì, vabbè, ci sarà la cesta, ma... Prima di trovarla... No. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ho appena rischiato la vita! Ho appena rischiato la vita con un salto! Calmati, Kendall, calmati. Calmati. Beh, non c'è nulla di utile qua. Dobbiamo sperare di trovare un'altra... Piramide. O se no, si va direttamente di Ancient City. Pre-Gappolo, quindi mi mangio la Mela d'Oro OP prima di entrare. Così dovrei avere immunità a qualsiasi mostro. Oh, sali? Ok. Il cammello ti permette di non prendere danno dagli zombie. Sì, infatti l'ho fatto proprio per questo motivo. Dai da mangiare al gatto. Ehm, no, perché tanto mi protegge solo da Creeper e Phantom. I Phantom non spuntano perché vado a dormire. Quindi non mi preoccupo di quello. E Creeper riesco a ucciderli stando alla larga. No, non me ne faccio nulla del gatto. Le mele nelle ceste, è vero. Allora, io tecnicamente potrei scendere anche da qua e non morire. Però, evitiamo. Evitiamo. Scendiamo ben benino. Piano, piano. Signor Camelo. Potrei entrare nel Nether. Con la Mela... Oddio. Con la Mela d'Oro OP, secondo voi, ci posso entrare nel Nether? Mi faccio dei piedini in oro. Appena vedo un bastione, mi mangio la Mela d'Oro OP e mi faccio la Netherite. Dai, sì. Ci provo? Anche perché in questo modo potrei farmi... Le pozioni... Eh, avrei bisogno di entrare nel Nether. Allora, aspetta. Ho bisogno di pietra. Io non sono già bravo a fare il portale. O pietra o terra, comunque. No, non entrare. C'era una croce. Non mi preoccupo più delle croci, ragazzi. Sono più forte di Aerobrine. Ragazzi, ci devo entrare per forza. Allora, mi dovete ricordare voi come si fa il portale. Perché io sono una schiappa. Quindi, se non sbaglio, devo fare così, giusto? Poi così. Ok. Ora, questo lo tolgo, giusto? Non me lo ricordo più, sì. Ok. E adesso devo fare, se non mi ricordo male, una roba tipo così. Così. Sì, dovrebbe andare bene così. Se Parrin, se mi stesse vedendo, si rivolterebbe nella tomba. Ok, allora. No, aspetta. E non lo faccio da tanto tempo. Allora, questo andava messo dietro, se non sbaglio. Quindi tipo così. Poi fai uno, due, tre. Non so se rendi che cosa qui. No. Posiamo questo. Prendi questo. Lo metti nell'altro lato. Ok. Io l'ho sempre fatto così, ragazzi. Ok. Adesso dobbiamo fare qua su. Dobbiamo metterla. No, cosa? Perché mi state dicendo no? Ragazzi, non mi confondete, che sono già confuso di mio. No. Eh, vabbè, sono un cretino. Vabbè. Così. E infine. Così. Riprendiamoci quest'acqua. No, non farlo, muori. Ma ragazzi, c'ho la... C'ho questa. Con questa non dovrei morire. Abbiate un po' di fiducia. Cioè, avete ragione. Molto probabilmente morirò. Però, eh, qualcosa devo fare. La nederite è troppo OP. Devo sfruttare il fatto di avere questa qua. Quindi appena trovo un bastione, me la mangio. Così ho cuore in più. In più sono immuno al fuoco. È la mia unica chance di andare avanti in questa serie. Se no, che devo fare? Ok. Non mi sono fatto l'elmetto in limone perché fa schifo. Adesso qua, aspetta. Devo fare... Così, giusto? Fammi vedere se ho ragione. Ok. Identica cosa. Qua, così. Perfetto. Quindi. Il portale l'abbiamo fatto. L'acciarino. Ce l'abbiamo. Mamma mia, muoio sicuro. Allora, voglio liberarmi un attimo l'inventario. Mi devo fare arco e frecce. Arco e frecce, arco e frecce, arco e frecce. Quindi prima di entrare dobbiamo avere almeno quello. Così posso sniperare a distanza i mostri. Quindi l'arco ce l'abbiamo. Le frecce. C'ho 15 piume. C'ho gli stick. Devo mettermi a scavare la gravel che ho buttato. Bravo, Kendal. Dove l'ho buttata? Porca miseria. Va bene. Facciamo per ora queste poche che riusciamo a fare, dai. Non avrei dovuto buttare la gravel. Dai, sei frecce. È qualcosa. L'acqua non ci servirà a nulla. Il cibo lo teniamo da questa parte. Ora abbiamo bisogno soltanto di blocchi. Non è proprio geniale mettere i blocchi di legna nel nether, però sono quelli più comodi da fare. Rip Kendal. Ragazzi, abbiate un po' più di fiducia. Lo so, avete ragione. Al 99% dei casi morirò, ma fidatevi un pochettino di me, ok? La barca non mi serve più a nulla. Questa non mi serve più a nulla. Il carbone potrebbe servirmi. Quindi io devo entrare per prendere il template e la netherite. Basta. Dopodiché posso andare via. Inoltre la netherite la posso prendere col piccone in ferro? O mi serve quello in diamante? Hai la voce rauca un pochino. Ok, non lo posso prendere con quello in ferro. Quindi, ok, ok. Meglio ancora, meglio ancora. Facciamo soltanto una tappa. Prendo soltanto il template. Ok? Prendo il template, poi esco. Prendo i diamanti. E poi rientriamo quando avrò i diamanti. Ok? Dai. Secondo me se sono bravo abbastanza riesco a sopravvivere. Abbiate un po' di fiducia in me. Si entra nel nether con mezzo cuore in hardcore. Ho come l'impressione che qua ci sia stato un ghast. Ok, dei ghast mi devo effettivamente preoccupare. Santo cielo. Fa troppa paura il nether. Allora. Oh, fortezza! No! Non mi serve a nulla la fortezza per ora. Non voglio andare troppo a caso perché Aspetta, aspetta. Ripkendal. Dai ragazzi, vi prego! Non scrivete Ripkendal. Nella fortezza si trova il template. No, ma non sto cercando il template. Sto cercando quello della netherite, non il template dell'armatura. O si trova anche lì? Come si cerca qua? Eh no, non c'è. Non ve lo posso fare vedere quello che sto cercando. Si trova solo nel bastione, se non sbaglio. Giusto? Non sto cercando quello per abbellire l'armatura. Sto cercando proprio quello che ti permette di fare l'armatura in netherite. Rip piccone. Eh vabbè, dai. Le crafto un altro. Tranquilli! Non mi sembra questo... Eh sì, colletto. Non mi sembra questo il problema più grande. Sì, sono solo nel bastione. Ok. Calmi. Ok, devo guardarmi intorno per assicurarmi che non ci sia uno di quei porci. Allora, non posso andare verso la fortezza per un motivo molto molto semplice. Ovvero... Se mi sniper ho un blaze, sono morto. Quindi credo che con me... Ghast da quella parte. Lì quello c'ha la balestra incantata. Ok, devo andare per forza da questa parte. Se no, lì muoio sicuro. Ti prego Ghast, ti prego no. Ti prego non darmi un ghast. No, no, no. Scendi. Come faccio? Dobbiamo ammazzare quel ghast. È arrabbiato? Ok, è morto. Ok, ok, ok. Tranquilli. Tranquilli. Visto perché mi sono fatto l'arco con le frecce? Anche se uno soltanto. Non me ne faccio niente della fortezza. Ho bisogno di andare dall'altra parte. Ragazzi, lo so che è rischiosissimo. Ma il bello è proprio questo. Se no che l'ho fatto a fare. Un hardcore con mezzo cuore. Eh, lì ci sono pure i weeder. Ok, l'importante è che non mi faccio sniperare. Aspetta, le coordinate. Segnatevele. E meno cinque. Che se mai dovessimo riuscire a uscire vivi dal nether, dobbiamo tornare lì. Oh! Piano, fratello. Serve solo il bastione. Saliamo. Commercio con i piglin. No, no, no. E perché? Io meno li infastidisco. Quelli meglio è. Allora, devo guardare veramente con molta attenzione che non ci siano che non ci siano né ghast e né cinghiali. Sembrerebbe di no. Per ora. Ecco, lì c'è un cinghialotto. Vediamo se riusciamo a trovare un bel bastione qua nelle vicinanze. Che poi il bastione in hardcore, ragazzi, è tutto un altro paio di maniche, eh. Cioè, i bruti in hardcore ti tolgono tipo otto cuori a colpo con l'armatura. Figurati, io che ho mezzo cuore. Sono praticamente più morto che vivo. Tu rilassati. Eh, ragazzi. La tensione inizia a farsi sentire. Allora, se cammino sugli alberi tecnicamente siamo belli tranquilli. Perché niente nessuno mi può raggiungere. Ricordiamoci che ci sono anche scheletri e enderman nelle nether. Ecco, lì ce n'è uno a proposito. Ditemi se vedete un bastione. Sto andando piani Oddio, mi ero sempre attivo di vedere il bastione. Sto andando pianissimo a posto, ragazzi. Non sono così nabbo. Sto cercando di non fare neanche un errore. Secondo me da quella parte un bastione c'è. Piano. Non voglio dover sprecare la mela d'oro adesso. Non ti ho guardato, non ti ho guardato. Fatti gli affari tuoi, stupido. Sì, vabbè, pure i suoni. Ce la puoi fare. Ragazzi, avete mai visto qualcuno con mezzo cuore hardcore entrare nel nether? No, pensavo fosse un bastione quello è basalto. No, che non l'avete mai visto. Chi cavolo è mai entrato nel nether con mezzo cuore in hardcore? Allora, spero che non ci sia un maiale. Bene. Che butto? voglio fare degli altri blocchi. Oddio. Che ansia. Che ansia. Lasciate un mi piace, ragazzi. Siamo a 2270 mi piace. Ne voglio vedere almeno 3000. L'importante è che non vado nel panico. Qui c'è sicuro un bastione, me lo sento. Quanto vorrei saper fare tutte quelle triangolazioni, tutte quelle cose strane. Ok, qua è abbastanza tranquilla la situazione. Dobbiamo scendere. Zitti, zitti, zitti. Scendi pian pianino. Kendall, Kendallino. Là c'è un enderman. Anche lui mi può potenzialmente one-shotare. Vai, Kendall. Sei il mio youtuber preferito. Grazie. Questo mi darà la forza di sopravvivere. Eccolo lì. Trovato. E vedo già i bruti. Allora, da questo bastione a noi servono due cose. Sentite un ghast. Da questo bastione a noi servono due cose. Eccolo. L'oro e i template. Basta. Ci servono solo queste due cose. Come faccio a scendere adesso senza ammazzarmi? Vai nel portale abbandonato. No, troppo rischioso. Perché in mezzo alla lava c'è un ghast. Io sto ghast lo voglio uccidere. Però come faccio? Non ho tante frecce e non lo vedo neanche. Lo sento ma non lo vedo. Ci deve essere un modo per scendere, no? Sì, dagli alberi. Spero che qua non ci sia uno stupido maiale. Ma quello è un altro bastione? Possibile? Due bastioni uno attaccato all'altro? Ragazzi, mi sembra un altro bastione quello. Zitti, zitti. Ti prego, ti prego, ti prego. Non fare errori, Kendall. Per favore. Voglio a tutti i costi riuscire in questa impresa. Sì, lo è. Ok. Forse quello sarà più facile da espugnare visto che non c'è tutta la lava attorno. Mi serve un template. Tecnicamente me ne serve solo uno. Perché dopo di che li possiamo anche sdoppiare. Sì, come faccio a scendere adesso? Mamma mia, ragazzi. Che ansia. Non posso fare un passo falso. Uso la barca per scendere. È troppo rischioso. Metti che si bug e prendo mezzo pure di danno. Preferisco camminare. Allora. Devo pre-gappolare. Quindi questa la devo mangiare prima di entrare nel bastione perché ho bisogno di tutta la protezione che riesco a ottenere. Due bastioni così vicini e anche la fortezza. Questo è il seed degli speedrunner. Se volete guardarlo è questo. Piano piano piano. Non mi seguire. Enderman. Piano piano. Attenzione ai magma block. Allora voi che siete pratici di queste cose in questo tipo di bastione dove sono le ceste? Dove conviene salire? Da qua? Salgo da qua? Vedo loro! È uno stables. Sono al centro. No, come sono al centro? Sei sicuro di entrare? No. Minimamente. Proprio no. Ho tanta, tanta, tanta paura. Le ceste sono in mezzo. Ok. Se io vado qua a prendere loro ci sono mostri principalmente bruti perché i bruti sono gli unici che io non reggo. Tutti gli altri li posso ammazzare secondo me. pensi di morire? Sì. Onestamente sì. Facciamo così. Allora, abbastanza blocchi. Ok, siamo ufficialmente dentro il bastione. Mi ha appena dato l'agipment. Mi allontano perché così non mi possono raggiungere. Ok, eccoli. E lì c'è un brutto. E lì c'è un brutto. Come faccio ad attirare la sua attenzione per farlo cadere nella lava? Secondo voi conviene provarci. Tanto mica possono volare, no? Sto per fare una roba di cui mi pentirò. Anzi. Prima facciamo così. No, è un bridge. Vabbè ragazzi io non la conosco la differenza tra bridge, stable eccetera. I bastioni lo sapete bene non li conosco. Ok, qua se non altro non ci sono dei bruti. Io vorrei mangiarla questa però la voglio anche mangiare al momento giusto. Facciamo così. questo me lo sgraffigna tutto io. Ok. Quest'oro è mio. Grazie. Sì, sì, sì. I piglin scambiano le derite. No. Ma quando è qua? Non vi arrabbiate. È tutto ok. Poi questi sono pigmen quindi non dovrebbero arrabbiarsi se prendo l'oro. mamma mia ragazzi quante mele d'oro mi faccio con tutto quest'oro. Devo soltanto sperare di uscire sano e salvo da qua. Allora mi serve mamma mia che ansia aiuto quanto pensi di resistere ancora? Probabilmente fino al prossimo scontro con un brutto. Appena trovo il brutto muoio. quanti sono? Sedici blocchi! Sì! Allora allora calma i bruti eh no i bruti mica si rigenerano no? Se li ammazzi tutti e ripulisci tutto il bastione dei bruti cosa può ucciderti? Niente perché i pigmen se non li attacchi non ti fanno nulla. è un bridge ok va bene non è importante due mele d'oro P? No ne ho una allora la mia idea è basta che torni vivo eh spero anch'io la mia idea è quella di dar fastidio a un brutto farmi inseguire fin qua e farlo cadere nella lava è rischioso? Sì posso farcela? Non ne ho idea quanto sono veloci? me la mangio questa? Secondo me me la posso mangiare dopo dai inseguitemi stupidi guarda dove sono oh brutto ok mi ha visto per forza via cavolo non ho la balestra mi ero dimenticato mi ero totalmente dimenticato della balestra ok continuo a buttarli giù bravissimo no stavo proprio per dire devo subito tirare sullo scudo mannaggia no eh si stupido nether io odio il nether maledizione odio il nether allora voglio tornare un attimo lì perché sono curioso ci torno in spectator ok questo mondo non c'entra nulla sono solo curioso di vedere che cosa avrei trovato quanta fame hai poca carli sta facendo un video allora voglio eh voglio tornare lì proprio per curiosità quali erano le coordinate queste tp questo qua era il mio portale quindi io sono andato da questa parte sono solo curioso ragazzi il mondo è già cancellato non vi preoccupate adesso ne restartiamo un altro ciao carpi maledetto mi ha portato sfortuna quindi dov'era dov'era era qua no eccolo allora fammi vedere un attimo una cosa io sono curioso di vedere che cosa avrei trovato e dove quindi no vabbè fa schifo sto bastione cioè per trovare i tesori dovevo entrare proprio dentro 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 e dove sono le ceste ah eccole si vabbè qua sarei no vabbè avrei potuto fare il giro qua non mi disturbava nessuno ti prego dimmi che non ci sono i template ti prego ti prego ti prego oh fermo ah loro spawnano così allora uno di nederite ma vabbè chi se ne frega no c'era il template se l'avessi saputo avrei evitato di fare quella cretinata qua col ponte avrei fatto direttamente il giro per prendere la cesta ma io non sapevo fosse qua mi avevate detto che era al centro quindi pensavo che dovevo percorrere questa strada qui e vabbè rip l'importante ragazzi è che si imparano sempre cose nuove dalla propria morte qua ce ne sono altre ceste si qua niente ok almeno qua non c'erano altri template quindi c'era il piccolo comment non è un problema si rifà si rifà quindi adesso devo ricreare il mondo in hardcore ok allora devo mettere un attimo lo schermo nero per due secondi perché non mi ricordo il comando quindi devo vedere un attimino da youtube il comando datemi un secondino prendo il video del tizio che lo spiega mi copio incollo il comando eccolo qui e adesso dovreste rivedere non si vede niente vabbè ma che lo dico a fare allora hardcore crea nuovo mondo ehi ragazzi io non avevo detto che quello sarebbe stato il mondo definitivo l'obiettivo è riuscire a battere il drago con mezzo cuore hardcore chiaramente dovremmo fare tanti tentativi perché è complicato è complicato ok ora devo mettere lan attiva fai il comando esci e rientra e dovrebbe avere mezzo cuore vediamo dai speriamo di avere un po' più di fortuna comunque adesso abbiamo imparato qualcosina abbiamo imparato che nel nether effettivamente riesco a sopravvivere più o meno devo soltanto fare molta più attenzione ai bastioni ok ai mostri dei bastioni io mi ero dimenticato che quello avesse la balestra se no non ci sarei mai andato là dentro non ci sarei mai entrato mi ero dimenticato che i piglin hanno la balestra e quindi ti possono colpire a distanza certo ci avrei dovuto pensare effettivamente con se non li poi è facile da dire quindi sono tutti errori che ti insegnano comunque qualcosa adesso non morirò mai con un pufferfish non morirò mai soffocato non morirò più per un piglin con la balestra questa volta porto un hopper bravo ok ok con l'hopper ti puoi svuotare tutta la cesta senza che loro si arrabbino bene siamo a 3000 mi piace ed eravamo 4200 poco fa io ragazzi qualcuno di voi non sta lasciando mi piace allora nuovo mondo nuova corsa ricordiamoci sempre mezzo cuore obiettivo pecore ormai è questo la routine iniziale pecore per prendere il letto così possiamo sopravvivere durante la notte il letto lo craftiamo già subito si va a prendere dell'altro cibo e si va alla ricerca di un bel villaggio che qua ci sarà sicuramente perché siamo sponati in una pianura no c'è più o meno pianura però qua dovrebbe esserci un villaggetto allora fatemi un attimo reloadare i chunk così non dovrebbe mai laggare andiamo da quella parte me la sento con mezzo cuore è difficile si tra l'altro non è mezzo cuore è basso ma è mezzo cuore è hardcore quindi i mostri comunque fanno molto più danno non so se cambia qualcosa ma sicuramente non è come giocare in easy dove a volte i mostri non ti fanno neanche mezzo cuore se hai l'armatura qui il danno è amplificato devi stare molto molto più attento stai registrando? si si ok ciao buon lavoro ciao ciao carli sta registrando uh attenzione sta registrando un nuovo video di carli che cucina in cucina fuori ok cibo vi dicevo villaggi ferro e così via comunque devo dire che siamo andati piuttosto lontani eh nello scorso mondo beh tutto sommato ragazzi se ci pensate siamo riusciti ad entrare nel nether e avevo anche alcuni diamanti cioè eh mica male e comunque quel piglin mi ha ucciso proprio per un per un po' di sfortuna perché mezzo secondo dopo avrei tirato sullo scudo e non ce la facevo più a uccidermi sono stato un po' sfortunato è che volevo farmi una barriera dietro per evitare che mi buttasse giù nella lava però fare tu ci avrei dovuto pensare prima mi ero proprio dimenticato che avessero la balestra ragazzi allora via qua prendiamo sto ferro zitti zitti piano piano solo tu puoi farlo eh non ne sono neanche sicuro eh non sono sicuro di riuscirci è difficile è veramente difficile come challenge però come vi ho già detto la voglio fare tutta in video così non ci sarà mai nessuno che dice eh si è agitato sicuramente no tutta in live con voi non c'è due senza tre e la quattro viene da sé esatto come faccio a giocare a mezzo cuore devi usare questo comando scrivi questo comando sul tuo minecraft e la vita sarà settata a mezzo cuore perché l'erba non ha la parte marrone perché ho l'optifine con l'optifine puoi rendere tutto il blocco verde con le impostazioni dell'optifine è molto più bello più soddisfacente ecco mi sarei sicuramente dovuto portare molte più frecce quindi anche quello è un errore che adesso non commetteremo più prima di entrare nel nether mi riempio di frecce l'unica cosa che mi dispiace non aver mangiato effettivamente la melador OP ma perché la volevo conservare contro il combattimento dei bruti cioè volevo avere tutti quei cuori in più per poter tankare almeno un colpo dei bruti e non ci siamo nemmeno arrivati ai bruti quindi vabbè se dovesse sentire carli ragazzi nel sottofondo ogni tanto è perché sta registrando un video in cucina allora lì ci abbiamo la neve il che è un problema perché è un problema vi starete chiedendo perché ci può essere la neve più nevosa e se io non ho gli scarpini non ho intenzione di entrare di passare di camminare sulla neve questo è poco ma sicuro quindi prima dobbiamo trovare delle mucche e farci la pelle ma adesso andiamo alla ricerca di un villaggio che è la cosa fondamentale anche perché ho pochissimo cibo veramente poco poco cibo tra non molto lo devo mettere a cucinare allora qua c'è un pollo addio bella faccia addio bella faccia junior addio bella faccia senior addio bel faccino allora aspetta mi prendo sta pietra qua ok così mi faccio la fornace cosa mi sono perso siamo morti questo è un nuovo mondo no bella faccia ok allora mettiamo a cucinare resto la rl craft tornerà ragazzi ma non adesso per ora sono un pochettino preso con l'hardcore mi sono divertito troppo nella big hardcore a farle live con voi e quindi voglio continuare un pochettino con l'hardcore da fare in live ovviamente allora se qua trovassimo del ferrozzo come la vedete scendi di un altro creeper oh man creeper creeper zombie creeper non mi fanno paura le ultime parole famose di un kendall creeper non mi fanno paura boom morto allora risaliamo qua che mi prendo il cibo sto morendo di fame e se dovessi morire di fame quel mezzo cuore mi uccide quindi meglio di no oddio che ricordi creeper oh man mangia 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 si ho mangiato ho mangiato sembrate mia nonna devo mettere a cucinare anche questo ferro che cosa ci facciamo il piccone allora visto che nella scorsa live volevate a tutti i costi che io andassi in caverna in questo andremo in caverna contenti in caverna con mezzo cuore e senza corazza in hardcore mi sembra geniale no la fame non fa danno sotto il cuore e mezzo sicuro anche in hardcore in hardcore non ne sono sicuro mi sa che fa danno anche e ti ammazza se non mangi fai lo scudo si facciamo scudo e piccone lo scudo è fondamentale grazie di avermelo ricordato perché me lo stavo scordando effettivamente ora piccone così mi prendo i diamantozzoli e si va in caverna ragazzi e chi ci ferma più a noi però prima di andare in caverna avrei bisogno di altro cibo quindi non mi farebbe schifo trovare qualche altro animalozzo qua prendiamo dell'altra legna che potrebbe servirci fai l'elmetto non ho abbastanza ferro ma hai l'optifine yes le piume prima o poi ci serviranno quindi le raccolgo allora questa caverna mi piace ci tornerei volentieri ah là c'è il ferro quindi diciamo ah scusate ora mi sentite ah aspettate maledizione adesso mi dovreste sentire ah adesso mi sentite ok adesso mi dovreste sentire scusate che avevo il tasto di muto sul tasto meno e quindi quando ho scritto la coordinata con meno mi sono mutato il microfono ok vabbè vorrà dire che dovremmo entrare nel nella caverna con così poco cibo ma tanto effettivamente se non sprinto non dovrei rischiare nulla se cammino piano piano allora eh che è una festa perché si è riempito di mostri tutto in un tratto idea non so se è una buona idea no 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 allora questo lo dobbiamo mettere qua questo qua non posso morire di nuovo nello stesso modo di prima ok 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 problema risolto oltre carbone yes questo usiamolo qualora ci dovesse servire e iniziamo a scendere ci sono scheletri qua zombie zombie dovrei riuscire a batterlo facilmente oddio non diamogli lo spazio di venire fin qua teniamolo a distanza cos'è quello un enderman altro zombie da tenere a distanza assolutamente rischiato ok ho un'idea visto che quasi scende scendiamo zombie sono concentratissimo ragazzi non posso fare neanche un errore prendi il ferro c'è il carbone scusate se non sto parlando molto ma sono veramente concentrato oddio creeper creeper non ci farà nulla andiamo da questa parte attenzione agli scheletri se vedete tutto così illuminato è perché ho messo una texture pack che aggiunge la night vision lo faccio solo per voi nelle live perché a me effettivamente non serve a nulla io ci vedo benissimo lo stesso è che youtube poi rende la live più scura e voi non ci vedete nulla cosa mi sono perso perché state spammando tutti cosa mi sono perso sono morto sto rifacendo tutto da capo sono morto però nel nether dopo aver fatto un bel un bel un bel progresso eh siamo andati avanti per un bel po' allora siamo a profondità 58 quindi dobbiamo scavare un bel po' per trovare diamanti per cui direi che è arrivato il momento di scendere e sapete come scendono i veri uomini? così a due a due così non rischio la vita dal drago ci andrà in diamante o in nederite? penso in nederite sempre se riesco a prenderla perché c'è il drago eh il drago sarà tosto con mezzo cuore è troppo tosto devi letteralmente non farti colpire neanche una volta mi sa che ci andrò con la testa di zucca così non siamo sicuri che un enderman non mi ammazzi come faccio a scendere adesso da qua? così testa di zucca e poi si fa tutto con arco e frecce mi sa che quello è l'unico modo per battere il drago con mezzo cuore e hardcore niente scale trivero? in agguato? sembrerebbe di no allora sto ferro mi serve prendiamolo ancora bene sì 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 l'ho preso l'ho preso l'ho preso tranquilli scendiamo ancora non siamo abbastanza in basso però io qua lo chiuderei che non si sa mai allora dobbiamo andare a meno questa era meno quindici no meno cinquanta circa con questo mi faccio le mele d'oro ipoteticamente fai l'armatura fai l'armatura non mi serve a nulla al momento l'armatura perché tanto qualsiasi cosa mi ucciderebbe lo stesso anche full diamante quindi è abbastanza inutile al momento l'armatura quel che devo fare sono degli altri utensili in ferro mi mettiamo a cucinare questo così mi faccio una pala e sono più veloce a scavare la ghiaia e magari troviamo anche un po' di flinte per farmi le frecce infatti un secchio d'acqua esatto secchio d'acqua un altro piccone una pala queste cose ci servono per ora il totem eh magari se trovassi però anche quello è difficile da prendere con mezzo cuore non è per nulla scontata come challenge allora oh ho sentito qualcosa aumento un po' i volumi così ci sentiamo meglio tutti sire l'elmetto glorioso appena avrò abbastanza ferro lo facciamo adesso dobbiamo fare questo ok piccone dovrebbe bastarmi almeno fin quando non trovo dell'altro ferro però non si sa mai me ne faccio un altro fatti lo scudo ce l'ho già è questo che ti sembra ok si può scendere di nuovo meno 57 devo andare eh il cammello fai le pozioni di slow falling per non morire si ragazzi come faccio a fare le pozioni se non vado nel nether kandall ti è arrivato il messaggio d'allerta si mi è arrivato appena ho iniziato la live la sono fatta sotto ok non posso più leggere la chat che mi devo concentrare adesso stiamo scendendo a delle belle profondità immaginate trovo oddio immaginate trovo l'ancient city eh si l'ancient city volevo dire dopo il drago continuerai la serie boh dipende perché è arrivato un messaggio all'erta boh era un test a quanto pare usa i letti per uccidere il dragon non potrei perché già anche soltanto l'esplosione quella calcolata del letto ti fa a mezzo cuore di danno quindi col primo letto toccato morirei subito infatti lascia in ferro non cambia nulla con quella in pietra è uguale fa lo stesso identico danno ma che messaggio d'allerta abiti in Emilia Romagna si a Bologna anche in Sardegna è arrivato si era un messaggio testa a quanto pare mi è arrivato sul cellulare è iniziato a impazzire il cellulare con scritto questo è un test messaggio d'allerta bla 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 nulla di preoccupante a quanto pare stavano solo testando questo tipo di tecnologia credo obiettivo di oggi era quello di farsi in nederite però sono morto nel neder quindi adesso direi di farsi almeno full diamante o in diamante non lo so trovare un po' di diamanti in caverna dai obiettivo trovare i diamanti e sopravvivere io ho preso un infarto si pure io è il bello che potete vedere la mia reazione proprio in diretta perché un secondo dopo che ho iniziato la live alle 12 esatte mi è arrivato il messaggio ok sto continuando a scendere fino a meno 57 le 2 live sono le migliori grazie lo apprezzo molto lo apprezzo molto meno 42 ora mi piomba un creeper dal cielo cosa mangi per pranzo boh quello che cucinerà carli è di là che sta facendo un video carli che cucina in cucina giocherai ancora only up esce un video oggi alle 2 sul mio secondo canale che per chi non è iscritto si chiama candy con la y oddio allora uso quello in pietra perché non ho altro ferro non mi saluti mai ciao joy youtube siete tanti non ce la faccio a vedere tutti i messaggi di tutti ok siamo a meno 57 tecnicamente adesso l'obiettivo è quello di fare strip mining fin quando non troviamo i diamanti però con sto piccone è lentissimo quindi speriamo di trovare almeno un altro pochettino di ferro stumble guys ci giochi ancora no no è meno 59 no no è meno 57 ma comunque non importa ma comunque non importa poi va a fortuna allora fatemi abbassare però un po' il suono perché sennò qua impazzisco io ok ma cosa serve l'allarme non lo so ragazzi non l'ho mandato io era un test hanno detto tranquilli non ti piace più stumble guys non è che non mi piace è che è diventato uno di quei giochi per cui devi allenarti 80 ore al giorno guardare i video degli altri per imparare i trick cioè diventa impossibile vincere semplicemente giocando devi conoscere tutte le scorciatoie tutte quelle cose quindi beh ma sbaglio c'era scritto deep dark no aspetta il deep dark è questo giusto non è l'enchant city no 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 ok sono due cose diverse il deep dark è perché siamo in profondità negativa ok non me ne faccio assolutamente niente di questa redstone possiamo ottenere magari del ferro please aspetta provo a mettere come si metteva sottotitoli ok mi sa che c'è della lava ho tipo sentito la lava ah in minecraft premium certo si c'è della lava è qua allora potenzialmente ci potrebbe essere una caverna quindi occhi ben aperti per i mostri però se c'è della lava tecnicamente si è qua a destra tecnicamente non dovrebbero esserci i mostri oh mio dio mi hai salvato gravel qua c'è lava possiamo salire se mi cade la gravel in testa ragazzi sto cercando di capire dove inizia e dove finisce la lava ecco ecco qua la caverna allora attenzione soltanto ai mostri ma non puoi scavare in uno per uno si però ho un piccone molto lento ci metterei dodici anni a trovare qualcosa con l'uno per uno quindi preferisco trovare prima una caverna e quando poi avrò un piccone magari in diamante o tanti picconi in ferro si va di uno per uno eh ok oro cosa me ne faccio però niente fin quando non trovo il ferro prendiamolo diamanti no eh sono vietati quelli ma raga siamo veramente nelle engine city non potevo capitare in un posto più sfortunato di questo allora se non altro se sto shiftato shiftato non dovrebbe succedermi assolutamente nulla giusto vabbè ok c'è boh vabbè io ero convinto che ci fosse il muro maledizione maledizione a me ha condominciato questa serie riproviamoci stupido candor stupido 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 candor ok no no problem ragazzi no problem si impara dagli errori ok mai scavarsi sotto i piedi si però pensavo ci fosse una parete invece vabbè lasciamo perdere si rifà dai speriamo di avere un po' più di fortuna con il seed stavolta bello no io esco me ne faccio un altro il seed si gode grazie la prima regola di minecraft ragazzi non ho cioè non so come spiegarvelo pensavo ci fosse la parete e che stessi scendendo giù dalla parete invece era un blocco più avanti la parete vabbè capita ok voi non siete mai morti così non credo tutti ci sono morti così almeno una volta c'è un villaggio qua nelle vicinanze io restarto fin quando non trovo almeno un villaggio mi sono stancato di farmi 500.000 blocchi a piedi non c'è niente allora mi butto addio si voglio un mondo dove spawno già vicino a un villaggio dai ho almeno uno bellino dove c'è dove c'è una pianura amo le tue live si perché sclero secondo me questo è il tentativo buono bello qua bello sto bioma non vedo nessun villaggio però vediamo se ne troviamo uno tra non molto metto il comando del mezzo cuore no no ragazzi devo per forza avere il villaggio vicino perché se no diventa troppo noioso stare a cercare un villaggio per un'ora ogni volta quindi stavolta si esce fin quando non si trova un villaggio ciliegi si vabbè ma non servono a niente dai carichi forza quando finisce la live non lo so cheat non doveva succedermi niente eh vabbè penso che capiti a tutti di morire no inoltre con mezzo cuore hardcore sai com'è vai ancora predici il futuro si sempre praticamente soprattutto negli shorts e in live tieni botta ci provo perché continui a creare mondi perché sto cercando un mondo che abbia un villaggio vicino nei paraggi se no devo stare un'ora e mezzo a cercarlo e diventa noiosa la live quindi fin quando non trovo un seed decente continuiamo è la mia prima live ciao Antonio benvenuto mi raccomando lascia un mi piace se non l'hai fatto eh no non metto seed preimpostati già sapevo che morivi e vabbè Giuseppe era scontato c'ho un mezzo cuore devi letteralmente fare tutto alla perfezione per sopravvivere quando hai mezzo cuore tutto bello bel villaggio inutile giungla e neve ma via dai ma poi le elimini i mondi si ora per sbaglio elimino l'impero craft vi immaginate a proposito non so se vedete ma ho registrato oggi nell'impero craft quindi uscirà presto un nuovo video un video che vi piacerà molto i posti che odio di più si infatti neve e giungla i due biomi peggiori di minecraft fai un hardcore con il seed dell'impero craft no dai un'isola stai scherzando cioè io cerco un bel bioma con un villaggio e tu mi spawni in un'isola quando esce il video boh cioè ancora dobbiamo editarlo quindi oggi l'ho passata grazia e nei prossimi giorni uscirà volete uno spoiler di quello che ho fatto nell'impero craft allora spammate uno se volete uno spoiler due se invece no anche qua niente villaggio ma è così difficile trovare un villaggio ok tutti state spammando uno vabbè per chi non vuole sentire lo spoiler tappatevi le orecchie ho fatto una farm kendall che fa le farm basta non dico altro vi ho già spoilerato abbastanza bello bellissimo qua proprio ora faccio due passi sprofondo e muoio pronti? guarda guarda che tra un po' c'è la neve più nevosa sicuro che bioma inutile bello esteticamente per carità ma totalmente inutile sì ho fatto una farm farm? no vabbè che farm hai fatto? no quella lo vedrete nel video vi dico solo che a quanto pare produce 1900 del materiale di cui io ho bisogno ogni ora quindi in un'ora ottengo 1900 drop sì vabbè c'è ancora con la neve oh siamo ad agosto ormai è tanto 1900 l'ora vero? ho fatto vedere tutto passo per passo no non ho usato la redstone alcuni di voi hanno già indovinato perché la neve è ovunque? perché c'è neve ovunque? è il quarto mondo pieno di neve di fila ma dai voglio un villaggio farm di grano? no farm di ferro 100% no anzi non vi dico più nulla non vi dico più nulla temperatura della GPU alta? 10? ma quant'è? dove si vede? no non è alta bello anche sto bioma totalmente inutile come sta Carli? bene farm di nederite sì ho fatto proprio una farm di nederite no ragazzi scherzi a parte la farm di nederite cioè il meccanismo che ti permette di scavare la nederite ho visto su youtube un video è impossibile farlo è impossibile cioè ci vuole ci vuole un casino di roba è complicatissimo in più ti devi scaricare un autoclicker e tutte ste robe qua e io non ho la minima intenzione di fare tutto quello quindi probabilmente io la nederite me la scavo a mano e basta tanto avete visto nelle mie live che ne trovo 20 ogni ogni secondo piano piano si fa oppure facciamo tipo un progetto bellissimo dove creo scavo e piazzo 200 tnt che tanto adesso le potrò fare anzi che dico 200 200.000 tnt le collego tutte con la redstone e faccio una specie di esplosione mega controllata quanto sarebbe figo sarebbe bello riempire tutto tutto un neder di tnt e farle esplodere tutte in una volta ok alcuni di voi adesso hanno al 100% capito che farmo fatto che ne dite secondo voi si può fare mi metto a scavare un tunnel tipo di 2000 blocchi e ogni 5 blocchi piazzo una tnt collego tutto con la redstone tiro la leva boom esplodono 2000 tnt di fila o mi esplode il mondo oh ma ce la faccio a trovare un mondo discreto basta con sta giungla ho provato è assurdo quindi funziona in questo modo troverei tantissima nederite no non ti esplode ok dai secondo me è una bella idea oh no vabbè ancora neve oh io vi giuro ragazzi se il prossimo seed è un seed dove spawno sulla neve chiudo la live iniziate a pregare che non sia neve se c'è anche soltanto un blocco di neve nei raggi di 200 blocchi dei miei occhi chiudo la live basta con sta neve siete fortunati siete stati molto fortunati non c'è neve c'è un deserto ok vai col comando ok esci rientra dai nel deserto magari ci troviamo una piramide che è sempre meglio di un villaggio ok ricordatevi mezzo cuore fortuna pura si meno male si adesso devo scendere senza morire pronti ok se me li prendo vediamo se riusciamo a trovare in quel deserto ti prego dimmi che è un vero deserto e che non è una spiaggetta inutile basta vediamo se riusciamo a trovare una bella piramide oddio mi sa che è una spiaggia no per favore no ho fatto 300 mondi è un altro mondo? eh vediamo dai mi sa che non è un deserto lì che c'è allora lì ce l'hava un posto degli annegati se nella cesta che dovrebbe esserci una cesta troviamo qualcosa di OP continuo se no chiudo il mondo e ne faccio un altro tanto non credo che siano già spawnati gli annegati no dov'è la cesta? eccola bello schifo chiudiamo il mondo e si rifà quando torna la modcraft ma ragazzi la modcraft è finita ha avuto un inizio e ha avuto una fine c'è la playlist se ve la volete riguardare tutta ci sono 200 e passi episodi ti prego non neve sperate eh ragazzi dovete sperare tutti quanti che non ci sia neve beh questa non mi sembra neve ma il bioma fa schifo diamanti? dove li hai visti? anche peggio si infatti dammi qualcosa di utile bello schifo villaggio villaggio no vabbè cioè trovo il villaggio ed è il villaggio raidato nel villaggio raidato si trovano delle aspetta innanzitutto per far sì che la challenge sia effettiva non posso andarlo a esplorare con tutti i cuori quindi mettiamo mezzo cuore aiuto che laggata ok nel villaggio raidato si trovano comunque le ceste il cibo l'iron golem e tutto mi sa di no mi sa che è vuoto ci trovo soltanto degli stupidissimi zombie è una mucca non trovavo il villaggio raidato da tantissimo tempo ma tanto tanto tempo ok almeno ci sono le balle di fieno così iniziamo con un po' di cibo l'iron golem no le ceste sì dai vabbè almeno è già qualcosa ok dai 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 poteva andare peggio quanti mondi hai? tanti troppi un giorno ho cancellato la cartella dei mondi di minecraft ed era qualcosa come 28 giga di cartella di tutti i mondi inutili mai usati non è raidato il villaggio e zombificato sì vabbè è la stessa cosa c'è stato c'è stato un'incursione da parte degli zombie che ha ucciso tutti quanti gli abitanti il letto mi serve thank you very much eh sì però non c'è altro parte balle di fieno qualche mucchetta che mi servirà perché devo farmi la pelle per farmi le mie armature spada boom qua c'è un c'era un'altra mucca qua eccola qua e siamo di nuovo vicini all'oceano ma è possibile che io stia trovando solo oceani in questo mondo solo sempre solo oceani e da quando sono morto col pufferfish che trovo oceani piccone questo non c'è della cobblestone normale qua in questi villaggi? ah sì però pochissimo poca 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 proprio never gonna give you allora va 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 riccone via si va a esplorare i sette mari facciamo così così questo me lo riprendo anzi il cibo prima e voi latte che sfiga manca una cesta no niente proprio inutile totalmente inutile però dai almeno abbiamo trovato del cibo e secondo me possiamo avere un po' di fortuna visto che là mi sembrerebbe che ci sia un deserto quindi magari nel deserto ci troviamo una bella piramide con un'altra meladoropi non morire con un silverfish no non morirei mai io contro un silverfish immaginate riesco a equipaggiarmi mi faccio tutto vado nel land per ammazzare il drago e mi ammazzo un silverfish quella sarebbe la vendetta vera dei silverfish sono anni che parlo male di loro e finalmente si possono vendicare allora mucche mi servite per la corazza e per il cibo una bella bisteccona di mucca è la mia prima live in cui scrivo benvenuto tanto quest'estate ragazzi lo sapete ho intenzione di farne tante di live inizieranno sempre intorno alle 11 e mezza barra 12 quindi tenetevi sempre liberi al mattino che l'imperatore va in live su minecraft allora qua c'è una bella pianura potenzialmente potrebbe esserci un altro villaggio lì non ci voglio andare lì però si ti prego dimmi che è deserto e non è soltanto un isolotto andiamo a controllare aspetta prima non si sa mai boom ora si che sono protetto ragazzi allora stiamo alla larga dagli annegati schifosi andiamo da questa parte non mi sembra un deserto mi sembra una spiaggia io vado al mare Gabriella che fortuna che è cos'è stato ho sentito un suono alquanto strano togli l'elmo in pelle ragazzi fin quando non ho l'elmetto in diamante in se buongiorno in diamante che schifo non mi permetterei mai fin quando non ho l'elmetto in ferro devo tenermi questo dovete sapere che tutti gli elmi vanno discretamente bene tranne quello in diamante quello in diamante è proprio tutti gli altri sono ok tutti tutti l'unico che dovete evitare come la peste è quello in diamante se ve lo dice l'imperatore vi potete fidare poi quello in limone vabbè si è quel che è che ci vuoi fare quello in chain è bellino perché è raro ma anche lì poca roba quello in pelle te lo fai per salvarti un po' un po' di protezione così quello in nederite invece è un ottimo elmo certo non a livello di quello in ferro ovviamente però a volte è indispensabile quello di tartaruga è bello quello di tartaruga è molto bello l'unico è quello in diamante ragazzi quello fa proprio schifo va proprio evitato in tutti i modi il titolo il titolo cosa perché odi quello in diamante non è che lo odio è obiettivamente inferiore come il metto non è un buon elmo elmo in diamante buh esatto hai scritto male il titolo cosa ho scritto male scusa gioco con con mezzo cuore hai ragione ho scritto gioco con con mezzo cuore grazie di avermelo fatto notare gioco con con mezzo cuore ho fatto una canzone no comunque belli sti biomi devo dire bellissimi c'è acqua e niente acqua e niente l'unico villaggio che ho trovato era distrutto dagli zombie prima ancora che il mondo esistesse quindi mi chiedo come abbiano fatto a raidare un intero villaggio visto che ancora il mondo non esisteva guarda guarda lì ci sono gli annegati siete pronti? ora mi arriva una tridentata tra i denti no in realtà non c'è nessuno mi prendo la cesta dai 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 veloce 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 marchi marchi risaliamo in superficie respira un secondo e giù perché le cesse sott'acqua laggano sempre? dai che non voglio morire soffocato eh sì buongiorno mappa del tesoro ok ottimo allora mi avete spiegato che per la mappa bisogna sempre andare a nord quindi ah no non sempre in questo caso è al centro ok proviamo aspetta se è al centro tecnicamente dovrebbe essere da questa parte no? no è dall'altra parte perché vedete questi isolotto di terra? è questo che vedete qua quindi dall'altra parte ci sarà dell'altro mare quindi dobbiamo attraversare tutto quanto la terra ok ok ci sono tecnicamente è da questa parte ragazzi sto andando bene? correggetemi se sbaglio eh no mi sa che sto sbagliando è giusto? dai che lì potremmo trovare diamanti e tante altre cose belle oggi pubblicherai un video uscirà uno short e un video sul secondo canale L2 mi sa di sì sì lo so che devo andare a 9 e 9 però prima dobbiamo trovare la X secondo me sto andando bene guardalo lì l'annegato schifoso vai vai annega annega muori maledetto bello sto mondo eh devo dire 10 su 10 uscirà un video di only up? sì uscirà il video dove steff e ferie mi hanno dissato alle 2 sul mio secondo canale uh che laggata no cioè no io la neve ok sto andando alla parte sbagliata buttiamo la mappa non era quella la zona giusta pazienza ormai siamo troppo lontani non ci torno tra non molto si fa notte e sto mondo fa altamente schifo eh il mondo quello god era quello dove siamo andati nel nether quello era bello veramente la mela d'oro OP il tesoro del mare quanto sto rosicando che sono morto nel nether mannaggia era prevedibile? sì l'ho fatto comunque? sì no non mi dire aspetta fermi tutti mi sa che questo è il mare in cui c'è il tesoro mi sa che è questo sì 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 devo riprendere la no dove cavolo l'ho buttata adesso? no aiutatemi ragazzi dobbiamo riprendere a tutti i costi la mappa vai via stupido zombie schifoso puzzolente sì era quello era quello era quello no 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 allora la ritroviamo la ritroviamo ne sono certo deve essere ancora lì deve essere ancora lì l'hai buttata nel mare sì lo so devo pescarla devo ributtarmi e pescarla stavo andando dalla parte giusta quindi eccola sciup vediamo se ho ragione quindi stavo effettivamente andando dalla parte giusta? lo scopriremo solo vivendo sì è quello il mare è visto ha la stessa forma la costa è uguale dai 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 che potremmo trovare qualcosa di utile nel tesoro però qua non cresce la il pallino come mai? dovrebbe avvicinarsi sempre di più invece è ancora bloccato non sta avvicinando? è più grande? no penso che è uguale forse devo andare di qua vabbè 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 ok va bene ok ragazzi spero che questa live vi sia piaciuta ho chiuso minecraft per sbaglio ci vediamo alla prossima